Ed è bello ricordare che nell'Eden c'era una donna, come sotto la croce c'è un'altra donna, lì Eva, sotto la croce la nuova Eva, il primo Adamo, il nuovo Adamo, ambedue chiamati alla distruzione, ambedue chiamati alla salvezza, sicché oggi celebrando la solennità di Cristo Signore, Re dell'universo, facciamo memoria davvero della Pasqua del Signore che è morte, sepoltura e risurrezione, grazie a tutti coloro che vi hanno partecipato. E sotto la croce c'era Maria, c'era il gruppo delle piedonne, c'era Giovanni, come in questa celebrazione, c'è Cristo Gesù che campeggia con la sua croce, c'è la Vergine Maria ai suoi piedi, qui rappresentata dall'icona di Cesto Cova e c'è questa folla, queste donne, questi fratelli che rendono onore e gloria a colui che ha regnato dalla croce, vexilla regis prodeunt. Ecco, il vessillo della croce avanza ancora oggi ricordando che la sua regalità ha sconfitto la morte e ci ha resi partecipi della gioia e della festa dei santi nel cielo, in quel paradiso promesso al ladrone pentito che è lo stare con lui per sempre, in un gaudio senza fine. intercedano per noi, la nuova Eva, la madre di Dio e Cristo Signore, mediatore della nuova alleanza, ci porti con sé nel suo regno di luce e di pace. E così sia, fratelli e sorelle carissimi.